me l'hanno sconsigliato di fare sto video. Benvenuti e bentornati signore e signori effenauti o ancora un po' indecisi fotografi e aspiranti tali. Oggi proviamo a destreggiarci in un mare di opinioni e di pareri tra i quali si annida anche il mio commento nella live con Gianluca e Samuele parlando di Cartier-Bresson che a quanto pare ha sollevato un bel po' di polvere e manco avessi bestemmiato in chiesa. E lo so però ve l'ho scritto nel titolo, sarei stato polemico in questo video perciò cominciamo dopo la sigla. Diamo per scontato come fosse tutto quanto bianco oppure tutto quanto nero? No, non dovrebbe essere propriamente così, anche perché vi suonerà magari strano, ma nelle foto di Bresson ci sono anche i grigi. Ecco, estrapolare un concetto oppure una frase da un discorso lungo più o meno due ore è come guardare dal buco della serratura e convincersi di aver visto tutta quanto la stanza compresi gli angoli nascosti. Si chiama illusione di conoscenza, è una comprensione estratta dal contesto e l'eco in una camera vuota e uno slogan con cui si vuole apparire più colti di quello che si è nella realtà. Il titolo del mio libro, Cartesio, ti odio e perbolicamente, ha proprio questo significato. Perché oggi siamo circondati da aforismi in quantità, diciamo, eccessiva. Cogito ergo sum, penso, quindi sono. È sbagliato. È sbagliato perché se avessi studiato Cartesio dovresti dire dubito, quindi sono. E allo stesso modo, parlare nel momento decisivo di Bresson, senza avere studiato il surrealismo e quanto lo abbia influenzato, vuol dire non capire bene la sua evoluzione di artista attraverso anche il suo lavoro di fotoreport. Ecco, in questo delirio di giudizi affrettati, di teorie strampalate, chiacchiere a vanvera e presunzioni di ignoranza, alla fine ognuno pesca quello che gli piace pescare, facendo ovviamente orecchie da mercante su tutto quanto il resto. Però andiamo con ordine e partiamo col chiarire subito una cosa. Sì, io ho detto che mi sta sul cazzo Bresson, anche se non capisco perché poi l'abbiate presa così sul personale. L'ho detto in più di una circostanza e lo ribadisco anche adesso. Bresson è a giusto titolo l'occhio del secolo. È un artista eccezionale che ha cambiato il modo di fotografare, proprio come Jimi Hendrix ha cambiato il modo di suonare la chitarra e Jacopo Pastorius invece il basso. Ma la verità è che mi scoccia l'atteggiamento sacrale che alcuni hanno nei suoi confronti, perché sembra quasi che se non ti professi discepolo della sua dottrina puoi anche smetterla di fare le fotografie. Ed è proprio qui che casca l'asino o meglio finisce la mia pazienza. Diciamo che alcuni fan sfegatati di Bresson lo hanno elevato a una specie di semidio, al punto che se osi esprimere una visione diversa ti guardano come se ti fossi macchiato dei dieci comandamenti e tutti quanti contemporaneamente. Il famoso momento decisivo di Bresson è un termine così abusato che a volte mi viene da pensare che lo si tira in ballo più per moda che non per reale comprensione. Lo stesso Bresson ha ammesso che la cosa è stata un po' fraintesa, sottolineando come ci siano tanti momenti decisivi, che la vita sta proprio nell'essere pronti a coglierli tutti. Bresson in realtà non cercava semplicemente di immortalare il quotidiano, ma raccontava la storia del suo tempo. Nei suoi viaggi nel mondo, Bresson è stato spinto da una missione precisa, cioè quella di documentare gli eventi storici con un'acuta percezione giornalistica. Ogni scatto è il risultato di una osservazione attenta, di una intenzione chiara di narrare con perizia e profondità le vicende umane e politiche che definivano l'epoca in cui viveva. Perciò quando dico che Bresson mi sta sul cazzo, in realtà sto puntando il dito contro quella tendenza quasi elitaria di vedere la sua visione come l'unica visione possibile. Mentre invece la magia della street photography è per me la personalissima bugia della realtà. C'è la capacità di fermare il tempo in uno scatto che racchiude una storia intera e per questo non per forza vera oggettivamente, racchiude un'emozione, un frammento di vita che senza l'intervento del fotografo sarebbe sfuggito inosservato. La bellezza della fotografia sta nella libertà di espressione, nella capacità di raccontare il mondo attraverso i propri occhi, sia che voi siate alla ricerca del momento decisivo oppure che preferiate costruire la scena a tavolino oppure semplicemente vi piace fare altro. Se qualcosa mi sta sul cazzo, è proprio quella mentalità chiusa che non lascia spazio alla diversità creativa oppure al pensiero critico. L'evoluzione artistica di Enric Cartier-Bresson, che lo vede passare dalla fotografia alla pittura degli ultimi anni della sua vita, è la testimonianza della sua ricerca di nuovi modi per esprimere la sua visione del mondo, non più vincolata adesso a doveri di cronaca e un ampliamento della sua capacità di espressione. Influenzato da maestri come Matisse e Giacometti, per esempio, ha iniziato a valorizzare l'eleganza dei gesti, la delicatezza dei contorni e la ricerca di una rappresentazione della realtà che va oltre la perfezione classica, abbracciando proprio l'imperfezione come spazio di espressione autentica. La pittura gli ha offerto la possibilità di immergersi ancora di più nei suoi soggetti, di contemplare il tempo e lo spazio con una libertà e una meditatività che la fotografia, con la sua immediata cattura dell'istante, non sempre gli ha permesso. Ecco, in definitiva, la transizione di Cartier-Bresson verso la pittura non è una bocciatura della fotografia, è proprio invece la testimonianza di un artista che non si accontenta di un suo modo per esprimersi, ma cerca delle nuove vie per comunicare la sua curiosità, il suo senso dell'osservazione, rendendolo già soltanto per questo uno dei grandi maestri del ventesimo secolo. E quindi, a chi si è indignato della mia affermazione, Bresson mi sta sul cazzo, o il momento decisivo è da ricercare nel reportage e in vecchiaia poi si è dedicato alla pittura, ebbè io gli consiglio magari di leggere e studiare qualcos'altro, oltre alla sua biografia. E a chi ha male interpretato il mio parlare di Meyerowitz o di Kappa, riporto esattamente quello che ho detto e lo difendo, e cioè a chi vuole imparare, mostriamo le fotografie senza per forza evidenziare il loro autore. Solletichiamo il pensiero critico, alimentiamo la comprensione del perché e non la conoscenza di chi, perché c'è la brutta abitudine, oppure anche il tentativo da parte di qualcuno, di imporre stupide teorie, approfittando del fatto che la gente non ha il coraggio di dire che sono stupide queste teorie, per paura poi di fare la parte dell'ignorante. Ecco, fateci caso. Quando è stata l'ultima volta che avete sfoderato un dibattito? Fermi, fermi tutti, pensateci un attimo, scavate nella memoria. Per molti di noi il siparietto del battibecco avviene più spesso di quanto ci piacerebbe ammettere, tipo ieri, la settimana scorsa o addirittura quella prima, è giusto? E allora io mi chiedo, ma come cazzo è possibile? Cioè siamo o non siamo in cima all'evoluzione della comunicazione? Tutto quanto oggi gira proprio intorno al al chiacchiericcio, al socializzare, eppure capirsi resta un odissea. Sì, perché se quando qualcuno parla uno fa... e l'altro invece fa... e allora sì, sì che sembra che si parli sempre in dialetti differenti, ma anche quando si parla la stessa lingua. A volte sembra di essere su canali diversi. E questo perché probabilmente snobbiamo tutto quello che non sono semplicemente parole. Parliamo, è vero, ma spesso quello che diciamo e quello che intendiamo ballano un tango con due ritmi un po' differenti. Una buona chiacchierata, quella proprio con la C maiuscola, e quella che dopo che hai detto una cosa, cioè... ah, ma allora ho capito, ma in realtà volevi dire quest'altro... ed è proprio questo il bello e anche il brutto della comunicazione. Sì, perché si usano le parole anche per nascondere, per alleggerire e per i più audaci anche pungere sottilmente. E se poi si aggiungesse anche un pizzico di intelligenza, il dialogo sarebbe più ricco, coinvolgente, partecipato, critico, costruttivo. E allora perché è così cruciale essere critici? Perché ci bombardano da ogni dove con informazioni di ogni tipo. E se non impariamo a pensare con un spirito critico, quindi con la nostra testa, finiamo ingoiati da bufale, da mistificazioni o, peggio, dalla propaganda del pensiero unico. E allora perché, allora, tanta gente finisce per ascoltare sempre e solo la stessa campana? Eh, questa potrebbe essere un po' pigrizia, paura del giudizio, la pressione sociale e tutto quanto un cocktail che ci spinge a rinunciare alla nostra individualità e a diventare un eco di un coro che è già stato sentito. Senza questo spirito critico, in realtà ci perdiamo il gusto di scoprire, di dialogare, di infrangere quei muri invisibili che costruiamo tra noi e gli altri. Finisce che viviamo sempre in una bolla, pronti a scontrarci al primo dissenso, soprattutto sui social, dove diciamocelo, tutti quanti cerchiamo qualcuno da amare, ma soprattutto sui social cerchiamo qualcuno da odiare. Diamoci quindi una scrollata a questa nostra tendenza ad omologarci, a pensare che se lo fa lui deve essere giusto per forza. Prendiamo tutto quanto questo ambaradan comunicativo e giriamolo invece a nostro favore. Sì, perché imparare a dialogare e capirsi e a interpretare un'ironia, una provocazione, è un'arte. E nell'era moderna, in cui tutto quanto corre veloce, ricordiamoci che un sorriso, un tono di voce, un'espressione del viso valgono forse di più di mille parole. Quindi armiamoci di un po' di tolleranza, di curiosità e soprattutto di spirito critico, che ci rende unici. Perché alla fine quello che conta non è soltanto parlare o ascoltare, ma anche capire e farsi capire e magari ogni tanto provare a sintonizzarsi su frequenze che non abbiamo mai ascoltato. Ovviamente provando a sintonizzarci su quelle senza distorsioni. E poi, per finire, cari amici effenauti, mi sono un po' scocciato di queste allusioni velate, di queste frecciatine lanciate come se fossero coriandoli a carnevale, ma senza un bersaglio definito. Come per esempio le fanzine, per essere di qualità, non devono essere album di figurine, oppure non bisogna fare filosofia, oppure per aprire un canale YouTube devi già sapere di cosa parli, oppure quando si fanno interviste perché non si hanno più contenuti, o prima di parlare di fotografia bisognerebbe tornare a scuola, con tanto di libri a corredo ovviamente di questa frecciatina, e potrei ancora andare avanti per ore. Ecco, una volta per tutte, sparare nel mucchio è un po' come fare i mafiosi, è la mafia davvero meridionale, mi fa schifo. Questa tattica del dico ma non dico, del mi riferisco ma non specifico, ha un nome e si chiama omertà. Facciamo così, ve lo dico io, avviso aperto. Se avete qualcosa da dire, buttatela lì, su quel tavolo che magari balla ancora un po' su una gamba più corta, però ancora regge. Criticate, esprimetevi, lanciate anche un bel vaffanculo se vi pare, perché almeno così è chiaro e diretto e non lascia spazio a interpretazioni da oracolo di Delphi. E se poi ci scappa una rissa, va bene, meglio una rissa che Cento forse voleva dire questa cosa qua. Guardate che la vita non è uno di quei film con il colpo di scena dove alla fine tutti quanti restano a bocca aperta perché il maggiordomo era l'assassino. Questa è la realtà, dove se hai qualcosa da dire, la dici e poi te ne prendi anche la responsabilità delle tue parole. Non siamo in una di quelle serie tv dove tutti quanti parlano per indovinelli e poi si risolve tutto quanto con un flashback. Qui, nella realtà, il flashback lo facciamo subito, in diretta, senza aspettare la prossima stagione. A me fa veramente sorridere questa cosa dell'accusare senza accusare, dell'alludere senza mai piantare una bella bandiera. E che siamo diventati? Dove siamo? Pirati dei Caraibi? No, sinceramente no, perché io la mia bandiera la isso chiaro e tondo e con un bel teschio che ride anche, perché almeno si sa da che parte sto, mentre invece voi preferite continuare a navigare in acque torbide, lanciando bottiglie con messaggi criptici, sperando e aspettando per vedere chi poi lo apre. Facciamola finita con questo gioco delle parti nascoste, delle mezze dichiarazioni che poi non si sa mai chi ha detto cosa o soprattutto perché. Questo è il momento di essere coraggiosi, di tirare fuori quello che abbiamo dentro e se questo comporta un'incazzatura, un fanculo o magari, chi lo sa, anche un applauso. Almeno avremo giocato a carte scoperte. Perché alla fine, come nella vita, come nel poker, vince chi ha il coraggio di mostrare il proprio gioco, non chi bleffa sempre sperando che gli altri passino. E io, signori a poker, gioco sempre così. E poi, per finire, per tutti quanti voi là fuori che cercate disperatamente di dimostrare quanto siete speciali attraverso l'autocelebrazione, l'autoincensamento, l'autocompiacimento, che poi sono tutti quanti sintomi di vanità, di superbia, di narcisismo, presunzione, arroganza. Vi lascio un consiglio spassionato. La normalità non è poi così male. Anzi, in un mondo ossessionato dall'essere fuori dal comune, la vera rivoluzione è ammettere di essere dannatamente ordinari. Ciao e alla prossima settimana.